Tempo fa un bambino mi ha detto la nonna mi dice sempre che il nonno è in paradiso, ma com'è questo paradiso? È una domanda che forse ci siamo fatti un po' tutti nella vita, come sarà il paradiso, come sarà la vita eterna e come ce la immaginiamo di solito? Penso che ognuno di noi si immagini il paradiso come un po' simile a questa vita terrena, però molto più bella, senza tutti i limiti di questa vita, senza più il dolore, senza più la morte, senza più tutte le fragilità che ci contraddistinguono e che contraddistinguono anche il nostro stare insieme. In realtà poi la Bibbia ci dice pochissimo riguardo a quello che sarà il paradiso, San Paolo dice una cosa molto semplice, molto profonda, dice saremo per sempre con il Signore, però nonostante questo forse non ci basta questo, vogliamo immaginarci qualcosa di più riguardo alla vita futura. Allora oggi vi voglio proporre un po' questa metafora, questa analogia, cioè immaginate di dover parlare a un bambino nella pancia della mamma, immaginate che possa sentirvi, che possa ascoltarvi e immaginate di doverli spiegare come sarà la vita una volta che uscirà dalla pancia della mamma, come sarà una volta che nascerà. Dovete spiegargli quelli che sono i colori, dovete spiegargli il mare, il cielo, la luna, il sole, dovete spiegargli cosa significa un abbraccio, cosa significa toccarsi, cosa significa mangiare, stare insieme, giocare, correre su un prato. Cosa potrebbe capire questo bambino? Il suo mondo è lì, è confinato nella pancia della mamma, lì è al sicuro, ha tutto quello di cui ha bisogno e non ha le categorie concettuali di pensiero per poter immaginare qualcosa di diverso da quello che è il suo piccolo mondo. Ecco, penso che sia un po' questo il motivo per cui per noi è impossibile capire il paradiso. Sarà una nuova nascita, dice Gesù, passeremo da questo mondo a un altro mondo e questo comporta una tribolazione, così come il parto comporta una tribolazione, tanto per la mamma ma anche per il bambino, però poi si trova in una nuova vita. Ecco, anche per noi questo passaggio è pieno di sofferenza, sia quando lo vivono i nostri cari e noi rimaniamo un po' più soli, sia quando dovremo viverlo noi quel giorno, questo passaggio e non riusciamo a volte a farcene una ragione proprio perché non sappiamo che cosa ci aspetta. Ecco, allora noi siamo un po' come questi bambini nella pancia della mamma, che è questa nostra madre terra, che è il nostro universo, che è la nostra famiglia, che è il nostro mondo, che è la nostra realtà di tutti i giorni e noi non possiamo sapere di preciso quello che verrà, perché è un altro mondo, perché è un'altra cosa, però se Dio ha preparato cose meravigliose per noi in questa terra, pensate che la sua fantasia di padre amorevole, compassionevole, misericordioso, non avrà preparato qualcosa di altrettanto meraviglioso nel mondo che ci aspetta, non possiamo sapere quello che ci aspetta, sappiamo che saremo per sempre con lui e che saremo per sempre con i nostri cari, sappiamo che l'amore che adesso ci lega sarà ancora più forte, più potente, ma di più non lo sappiamo, ma abbiamo fede, abbiamo speranza, crediamo che l'amore di Dio abbia preparato qualcosa di meraviglioso e lo attendiamo con gioia e già oggi preghiamo per i nostri defunti e preghiamo perché possa crescere la nostra fede in questo mondo meraviglioso che Dio ha preparato per ognuno di noi.